L'Accademia Capellini resta chiusa, l'Accademia di Scienze Naturali della nostra città che quest'anno festeggia i 100 anni di fondazione è bloccata per la minaccia di una muraglione che sovrasta la struttura di via 20 Settembre. Direttore, che novità ci sono per il proseguimento dell'attività dell'Accademia minacciata appunto da questo muraglione che rischia di crollare è lesionato dalle abbondanti piogge degli ultimi mesi. Come procederete per i festeggiamenti, gli ultimi festeggiamenti di questo centenario dell'Associazione? Beh, anzitutto non ritengo terminata questo periodo di festa del centenario perché l'Accademia è stata fondata nel 1919 anche se la palazzina è stata costruita dieci anni dopo, nel 1929. Come premessa devo dar atto al Comune della velocità con la quale è intervenuto perché abbiamo mandato la segnalazione del pericolo di questo muro verso le 9 di mattina, dopo un paio d'ore c'erano già sei vigili che i funzionari tecnici nel Comune. Quindi speriamo, perché il nostro auspicio è che venga fatto al più presto un'opera di consolidamento, di messa in sicurezza per permettere l'accesso all'Accademia, per permettere l'accesso alla biblioteca. Cosa facciamo? Ecco, nel frattempo sì, era già in programma per il 20, un incontro di presentazione delle cosiddette memorie dell'Accademia. È una miscellanea di studi degli anni precedenti. La presenteremo in un'altra struttura, la presenteremo presso la sede di Tele Liguria Sud a livello 17 e farebbe una cosa gradita rivolgere questo invito a tutta la cittadinanza. Continueranno altre manifestazioni. Il nostro auspicio è che oltre a questo consolidamento, dopo questo consolidamento, vengano riscoperte queste mura del 400 che sono di estremo interesse. Come dicevo l'altra volta, non parliamo di mura di Pisa, non parliamo delle mura di Lucca, però fanno parte dell'antico bordo Gospezino e sono veramente molto interessanti.